buongiorno 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 chi è qua all'ufficio brevetti allora è qua che uno porta le invenzioni nuove no esatto senta io ho inventato una cosa che è la fine del mondo che non l'ha mandato mai un altro va bene va e allora che cos'è dunque trattasi trattasi di gancio con cordicella metallica per paracadutista anticaduta come da capire dunque stai attento eh trattasi eh trattasi di gancio con cordicella metallica anticaduta per paracadutista insomma me lo vuole spiegare io non ho capito allora lei non ha capito niente scusi scusi allora con calma dunque aveva presente lei paracadutista mettiamo che questo paracadutista arrivato a circa 9.000 metri piga e salancia giustamente ad una certa altezza sapesse andare per questo paracadute e mettiamo caso che non sarà e se non sarà perché fa lo facciamo morire possibilmente aveva una famiglia a casa e i figli cospetto non lo facciamo morire se un muore il compassoio non voglio sapere niente lei mi potrebbe dire che lui aveva il paracadute di emergenza lei mi potrebbe dire che aveva un paracadute di emergenza morici sì e vabbè io avevo un paracadute di emergenza e mettiamo caso che anche il secondo paracadute non sarà bello che facciamo o facciamo una barandera o facciamo un dappare da qualche macchina posteggiata non è il caso no non è il caso e allora dopo entra in funzione il gancio con cordicella metallica per paracadutista anticaduta che mu spiegasse che è su gancio anticaduta per favore ora vengo e mi spiego dunque il gancio n'esce dalla sacchetta della giubba si piglia e tlac si aggancia e il paracadutista si salva ah ho capito n'esce un gancio dalla sacchetta e si aggancia bravo hai visto che lei ha capito sì ma una si aggancia e ma scusare non è che posso mandare tutto così io grazie